Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. WeWork, sicurezza, medicina del lavoro, verifiche periodiche, formazione. www.weworkpoint.it DecorCart, distribuzione e rappresentanze articoli packaging. Grazie a tutti! Tutoriale del lavoro è inserato. Tutoriale del lavoro è messo a il fatto sernato. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito 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 www.mesmerism.info Si parte e si rivedono i fantasmi di Pozzuoli per attimi lunghi e terribili Minuto 6, buco improvvido a centrocampo di Gomes, contropiede vertiginoso del Molfetta Longo stanga, tiro murato, voler rubesta di vivacqua e vantaggio ospite A cavallo del ventesimo un'occasione a testa, a Fucci risponde Tangorre, nulla di fatto Poco prima della mezza scarico dal limite per Maffei che stocca imparabile nell'angolo ed è pareggio Il bomber ci riprova con una punizione perfida dai 20 metri, titubante blocca Crispino Dopo l'intervallo subito filtrante per Lucchese, scavetto e Crispino si rifugia in angolo Al terzo destro di vivacqua da Furiaria che appena vellica i guantoni di Petrarca Al quinto il sorpasso, lancio di Silletti, si assopisce pane bianco, Maffei e Arpione in sacca 120 secondi, Mariani si incartoccia in corna, neutralizza Crispino Inzuccata di Coratella al ventiquattresimo il riflesso prodigioso del portiere Bitontino Vivacqua spedisce poi il cuoio fra le nuvole Poco prima della mezza assist luminoso di Mariani per Maffei che ci abbatta mal destro 32esimo stacca Kordic fuori misura Minuto 35 parabola di Chiaradia da corner spizzata a Beffardo e vincente di Corado sul primo palo che in pratica chiude il sipario sul match A due dal triplice fischio Muscatiello si invola e mette al centro per Corado schermato dagli Adriatici ormai in dieci per l'espulsione di Stasi In pieno recupero, diagonale di Muscatiello, i piedi dell'estremo bianco-rosso disinnescano il pericolo Un bel pieno di fiducia dunque in vista della terribile trasferta a Nardò contro la corazzata dell'ex Nicola Ragno Presidente era un po' un'incognita questa partita dopo una sconfitta pesante contro la Putiolana di ormai due settimane fa Non si sapeva come il Bitonto sarebbe arrivato a questa partita, però c'è stata una grande reazione Sì, la reazione c'è stata ma d'altronde quest'anno il gruppo ha dimostrato più volte di saper reagire all'incidente di percorso Quindi dopo la grande prestazione col Fasano c'è stata la sconfitta con la Putiolana Ma è stata appunto una debacle che noi non avevamo dubbi che la squadra avrebbe reagito e avrebbe ripreso il percorso Mario Sicolo, tu hai detto che si sono inizialmente rivisti un po' i fantasmi della partita con la Putiolana Però come è successo già tante volte durante il corso di questa stagione il Bitonto va sotto e poi reagisce da grande squadra Sì, non sappiamo se questa è proprio la cifra distintiva del gruppo Però effettivamente più volte è successo questo, nel senso che c'è stato un attimo di smarrimento anche tattico da parte del gruppo sul campo E poi pian piano gli stessi giocatori hanno ritrovato le coordinate per poter riassestarsi sul campo E poter affrontare qualsiasi tipo di avversario Perché non dimentichiamo che se è vero come è vero che il risultato è franco, il 3-1 è netto, è nitido anche per come è arrivato Però il Molfetta non era mica facile da affrontare, era un avversario di rango Ed effettivamente i primi minuti, d'altronde il gol lo abbiamo visto Il gol viene fuori da un'amnesia difensiva che poi ha dato il LAL al contropiede vertiginoso degli avversari Ed effettivamente il gol ci ha messo un po' paura Pensavamo che fosse una sorta di sequel della partita a Pozzuoli con la potevolana Invece poi grazie a tutta la squadra, a tutto il gruppo, ai ragazzi che hanno ritrovato quadratura, centrocampo e non solo Hanno ripreso in mano la manovra e soprattutto hanno ribaltato le sorti della gara Probabilmente questo dipende dal fatto che abbiamo un gruppo giovane Che ha sicuramente un condottiero che è riuscito a infondere in ogni suo ragazzo Quello spirito la vispugnandi proprio dei leoni che rappresentano sostanzialmente lo stemma della città E aggiungo e chiudo la mia annotazione più o meno critica sulla partita Nonostante si giochi a porte chiuse con lo stadio vuoto I ragazzi sembrano rappresentare a pieno tutto il pubblico nero-verde Riuscendo a trasfondere sul campo tutta quella forza, quello spirito invitto di tigrotti salgariani Che probabilmente li porta ogni volta a sfidare anche gli avversari più difficili e ostici E arrivare appunto alla vittoria Mario, una settimana fa con l'ospite Nicolangelo Biscardi, l'addetto stampa del Bitonto Dicevamo che la partita col Molfetta poteva rappresentare in qualche modo il crocevia Probabilmente definitivo della stagione per capire se effettivamente il Bitonto poteva mettere in cassaporte la salvezza Tu dici? Sì, ormai è cosa fatta perché anche il festeggiamento a fine gara di tutta la squadra con i dirigenti È stato l'emblema sicuramente del primo obiettivo raggiunto per la matematica Basta poco, però ormai il Bitonto può considerarsi salva perché anche nelle retrovie ci sono tanti sconti diretti Le squadre più invischiate nella lotta per i play-out si sono giunte, anche la Lucerina Quindi insomma c'è molta carne a fuoco dietro, quindi credo che questa vittoria sia una liberazione Una liberazione che poteva venire sicuramente sabato a Pozzuoli Però insomma un incidente di percorso come è stato già detto può capitare Però voglio sottolineare che è una squadra che ha il quarto attacco del campionato con 37 gol Insomma è tanta roba, però è una squadra che era partita con obiettivi minimi Insomma con anche un patrimonio giocatori montengaggi basso e riferimento a tutte le altre società C'è chi diceva ma Bitonto è senza attacco ma a sto punto diciamo con 37 gol ha fatto meglio insomma solamente la Cavese Grazie ai 5 gol di domenica scorsa, però insomma è parecchia roba E come diceva giustamente mister a fine gara fare 37 gol significa arrivare circa 80-90 volte davanti al portiere Insomma quindi è tanta roba e poi l'ultima considerazione sulla partire di domenica Un gran secondo tempo fatto veramente di intensità che ha messo alle corde un insomma un Molfetta che come diceva giustamente Mario Sicolo Insomma una squadra, una buona squadra è strano che insomma vederla in queste acque qua Però comunque è una vittoria di forza, come ripeto a forza del gruppo e poi insomma abbiamo dei giocatori Oltre Maffei che sta risultando sempre decisivo, più che altro anche il match winner Però non dobbiamo dimenticare il lavoro oscuro di Mariani e di Cardore Infatti sempre a fine gara domando al professor Arcella Dico ma chi è che ha fatto più chilometri in questa mancia? Infatti sempre Cardore e Mariani se la giocano Quindi insomma un lavoro oscuro di questi due ragazzi E poi determinante secondo me è stata la parata di Petrarca sul colpo di testa ravvicinato di Coratella Insomma ci sono tanti elementi insomma da prendere in considerazione Però è un'orchestra insomma che funziona, sta funzionando molto bene E grazie insomma allo staff e alla dirigenza insomma Che ha creduto in questo diciamo piccolo progetto Che comunque sta diventando sempre più importante domenica dopo domenica Presidente sei d'accordo con la questione salvezza acquisita E secondo te adesso si può guardare soltanto in avanti? No, salvezza acquisita lo diremo solo quando la matematica ce la darà e ce lo consentirà Al momento siamo tranquilli, siamo in una posizione tale che il destino dipende solo da noi E non dobbiamo guardare gli altri risultati E questo è già tanta roba perché molto spesso ci si mette nelle condizioni che si deve guardare gli altri Noi siamo tranquilli, abbiamo nove partite e penso che dobbiamo fare solo 5-6 punti per avere la matematica certezza della salvezza Quindi mi piace, mi aggancio alle ultime parole di Mario È un'orchestra È vero Claudio Maffei sta facendo tanti gol Prima di Claudio li stava facendo Loris Fanno tanti chilometri Mariani, fa tanti chilometri Cardore Petrarca, Para Sottolineiamo che nel 2023 tutte le vittorie sono venute da situazioni di svantaggio C'è l'ennesima dimostrazione di un gruppo che lavora all'unisono Hanno tutti lo stesso obiettivo Hanno capito appieno quello che è lo spirito del mister E ovviamente del simbolo che ci rappresenta Quindi io sono soddisfatto di questo Tutti stiamo andando nella stessa direzione E questo ovviamente è questo che ci fa stare tranquilli Che sicuramente quei punti che mancano per la salvezza arriveranno A inizio voglio ricordare quella che è stata la nostra conferenza stampa a inizio stagione di presentazione Diciamo l'obiettivo è la salvezza Prima ci salviamo, prima ci iniziamo a divertire Io lo ribadisco ancora oggi Ora abbiamo un calendario abbastanza difficile Perché abbiamo Nardò, abbiamo Cavalacavese Poi abbiamo Francavilla Ovviamente partite facili non ce ne sono Ce lo dimostra la partita di Pozzuoli Ogni anno diciamo sempre che il giro di H non è facile Quindi non ci sono partite facili Noi siamo a metà classifica Sotto di noi a lottare per evitare i play-out Ci sono squadre come Molfetta Come Nocerina Come Francavilla Come Gravina Come Afragola Sono tutte squadre che a inizio anno Sono state costruite per puntare ai play-off E non solo Quindi noi questo dato ci dà la grandezza del nostro campionato Quindi ovviamente in questo momento Noi dobbiamo solo fare il prima possibile questi punti E poi ci mancheranno non so 5-6 giornate In cui i ragazzi si potranno divertire A guardare solo in alto E allora adesso andiamo a sentire le parole di Mister Losieto nel postpartito E' una scopola sicuramente salutare quella di sabato scorso Perché come dico Mi piace pensare che ogni cuoco conosce i propri ingredienti Ero consapevole che qualcosa non era andato come speravamo 8 giorni fa Però oggi credo che sia stata una partita ricca di emozioni contrastanti Partiti male Perché abbiamo subito questo gol su un'ennesima disattenzione Quindi abbiamo perso anche un po' di lucidità Per riuscire a cercare di pareggiare la partita Poi c'è stata questa invenzione che Malfei ha tirato fuori dal suo cilindro Ci ha permesso di pareggiarla Poi il secondo tempo siamo entrati sicuramente con un'altra mentalità Altro piglio Abbiamo cercato le giocate che si erano preparate in settimana Pensavamo che il Malfei si presentasse come si è presentato E quindi sono venuti fuori queste giocate che noi avevamo preparate in settimana Ci hanno permesso di fare il secondo e il terzo gol Anche su una palla inattiva finalmente l'abbiamo fatta e non l'abbiamo subito Ci siamo divorati diverse occasioni In segno che la squadra è viva, la squadra c'è, la squadra di personalità Questa vittoria contro una buona squadra sicuramente Ci avvicina ancora di più a quello che è il nostro obiettivo Ossia la salvezza Però il merito va a tutto il gruppo E soprattutto agli stretti collaboratori del Mise Salvo, Vito, Filippo, Alessio il dottore e Antonio Perché hanno rimesso con gli straordinari in campo Lucchese, Chiaradia Ci hanno provato fino all'ultimo con Carullo Finalmente abbiamo avuto la possibilità E penso che averlo a disposizione è un grande piacere Gaston Corato Quindi faccio i complimenti a loro E dedico questa vittoria a loro Perché questa settimana hanno fatto veramente gli straordinari Presidente, come valuti l'operato del mister sino ad ora? E qual è il tuo rapporto con lui? Io con il mister ho un bellissimo rapporto Devo dire che ho sempre avuto un buon rapporto con tutti gli allenatori Io sono sempre stato a loro disposizione per risolvere le problematiche Che settimanalmente ovviamente c'erano Col mister Loseto si è creato un rapporto che è quasi fraterno Non voglio dire padre e figlio altrimenti si arrabbia Dico fraterno Questa è una foto scattata ad agosto Sì, sì, sì E quindi ovviamente nel calcio si creano a volte questi rapporti di empatia Di feeling E sono contento che questo ovviamente Diciamo sia accompagnato anche dei risultati Penso che i risultati del mister sono sotto gli occhi di tutti Ma non già adesso, anche nella stagione di due anni fa Il mister è una persona che ha dimostrato il suo valore con i fatti Domande per il presidente? C'è anche Mario Vai Mario Romano, vai Allora, al netto di questa, facciamo gli scongiuri Insomma di questa salvezza già raggiunta Il rapporto insomma è noto di amicizia Ormai si è creata una famiglia con mister Loseto Vorrei chiedere ad Antonello se ci sono i presupposti Per poter già incominciare a programmare una stagione Un'altra stagione con mister Loseto E se c'è la volontà della proprietà insomma di continuare insomma a credere in questo progetto Allora questa è una domanda diciamo Sono più domande nella stessa domanda Alle quali non posso rispondere a tutte Semplicemente perché è prematuro Abbiamo ancora nove partite La salvezza non è ancora acquisita I ragazzi lo sanno Dobbiamo pensare a chiudere bene questa stagione E poi ovviamente Solitamente noi a ridosso dell'ultima giornata Ci siamo sempre seduti con la proprietà Per iniziare a programmare il futuro Quindi anche quest'anno sicuramente sarà fatto Le variabili Può essere anche che il mister venga chiamato da una squadra di categoria superiore O da una squadra che magari li propone di puntare a vincere il campionato Io non credo che noi siamo nelle condizioni anche l'anno prossimo Di poter tornare a puntare per altri obiettivi Anche perché prima di tutto dobbiamo vedere come si evolve la situazione stadio Quindi al momento noi siamo sereni Ci accingiamo a chiudere il campionato La nostra stagione E poi sicuramente ci sederemo per pianificare il futuro Sicuramente il mister non ha un ottimo rapporto solo con il sottoscritto Ma ha anche un ottimo rapporto con il direttore sportivo Con il mio col Filippo Stolfi Il vicepresidente Quindi ha un ottimo rapporto con tutti Così come lo ha tutto lo staff D'altronde alla fine è inutile negarlo Quando le cose vanno bene È vero che bisogna distribuire i meriti su tutti gli attori Ma anche quelle piccole cose che non vanno bene vengono nascoste Quindi bisogna essere anche onesti nel dire questo Perché poi molto spesso nel calcio alla fine Gli allenatori anche quando non sono colpevoli Vengono condannati Però io credo che tutto lo staff ha un ottimo rapporto Con tutta la dirigenza Quindi sicuramente Il mio pensiero Ma penso che anche quello di tutti Sarà quello di confermare Lo staff E di confermare la bellissima stagione Che stiamo facendo Anche l'anno prossimo Mario Sicolo Sì io più che una domanda Vorrei fare una piccola riflessione Facendo lievemente macchine indietro Rispetto a quello che è stato chiesto adesso Il presidente Ringraziando Danilo Proprio per aver fatto vedere Per aver messo appunto In primo piano Quella fotografia di quest'estate E sì perché Se è vero che adesso insomma Il cielo è diventato azzurro Sulla città degli Ulivi E non solo Sul città degli Ulivi Ma poi ne parleremo Se è tornato azzurro E finalmente le nuvole mannare Sono state spazzate via Da questo vento Fatto anche di successi Ebbè non dobbiamo dimenticare Che probabilmente A giugno scorso La situazione era molto più ingarbugliata E probabilmente anche più Dolorosa se vogliamo Sotto un certo aspetto Motivo per cui io ricordo Alla perfezione Che tutta la città Tutti i cittadini Tutti i bitontini Tutti i tifosi Guardavano con area interrogativa Verso la società Che probabilmente aveva Altre intenzioni Rispetto agli ultimi anni Dove è incontestabile Che sia stata sempre Tirata su una formazione Che potesse giocarsi appunto Il successo finale in campionato Quindi Tutti quanti guardavano Assediati Da ombre Da paure Cosa sarebbe successo E ricordo appunto Un incontro con Antonello Ecco Si faceva prima L'elogio di tutto lo staff Di tutto il gruppo Del mister Che inevitabilmente Indubitabilmente È stato il magno magnete Che ha attratto Un po' tutti gli altri Tutti gli over Per esempio Molti Credo che siano venuti qui A Bitonto Anche perché Avevano un rapporto Di stima e fiducia Personale Anche col mister Però mi sento qua Di fare gli elogi E di cantare le lodi Proprio del presidente Antonello Orlino Perché io ricordo Ci incontrammo al bar Un bar abbastanza popolare Anche senza avverbio Ci incontrammo E c'era il sole Già torrido Che spaccava le pietre Quel giorno E parlammo E Antonello disse Era pronto a farsi carico A prendersi questo fardello Tutt'altro che lieve Che sarebbe stato appunto Rappresentato Da questa stagione Con le ambizioni Necessariamente ridimensionate Rimpiccolite Ci voleva veramente Tanto coraggio E io questo sottolineo Il coraggio che veniva Dal fatto che Antonello Tra l'altro Quest'anno è presidente Ed è cresciuto Nella società Avendo sempre Prefetta consapevolezza Del proprio ruolo Sapendo quello Che poteva fare Quello che non poteva fare Quello che poteva dire E quello che non poteva dire Riuscendo così anche A creare Una sorta di patina difensiva Intorno Una sorta di involucro Di bozzolo All'interno del quale Poi tutto il resto Si sarebbe mosso Per andare poi A prendere forma Che è quella Che noi vediamo ogni giorno Quindi ecco Volevo semplicemente Fare gli elogi Di Antonello Perché effettivamente Ricordo lui E Leonardo Quest'estate Se non ci fossero stati Ed è bene anche Il fatto che si sottoline Che la proprietà Resta sempre quella E quindi magari Anche se Qualche voce Potrebbe Qualche murmure Sospetto In città È bene Chiarire questo Che la società È sempre Della famiglia Rossiello La proprietà È quella Della famiglia Rossiello Però se non ci fossero stati Antonello e Leonardo Probabilmente oggi Non staremmo qui A parlare Serenamente E quasi felicemente Delle sorti Del bitonto calcio Vuoi rispondere Presidente Se c'è poco da rispondere Mario Ti ringrazio Mi fa Ti ringrazio tantissimo Io Non ho mai avuto problemi A metterci la faccia E a metterci ovviamente Impegno In quello che Ritengo giusto Come sempre ho ribadito Nelle mie Interviste Per il bene Della città Perché io ritengo Che il calcio E la squadra Sia un bene E un patrimonio Di tutta la città Quindi io Devo Devo dire Che è stato Molto importante Perché poi alla fine Da soli Non si va da nessuna parte Quindi L'appoggio di Filippo Stolfi È stato È stato fondamentale Per me Io quando Francesco Rossiello Mi disse Che Quello che sarebbe stato Il mio futuro Io la prima telefonata L'ho fatta a Filippo Stolfi E quindi il suo appoggio È stato per me Importante Di coraggio Ovviamente Con Leonardo Rubini Ormai sono dieci anni Che condividiamo Questi guai Quindi Ovviamente Io devo per forza Dividere I tuoi Ovviamente I tuoi elogi Con loro Devo dire che Nel calcio E sarà sempre così Cioè Se si vuole Andare avanti E io credo E io credo Che questa Questa stagione Anche la stagione scorsa Da queste stagioni Tutta la città Deve Imparare E tutta la città Deve crescere Io sono Io sono giovane E sono cresciuto Con l'esperienza Ma anche la città Deve crescere I tifosi Devono crescere E devono capire Che Va bene Esprimere il proprio parere Esprimere il proprio giudizio Ma se c'è qualche folle Che investe Anche lui Ha il diritto Di sbagliare Così come I calciatori Le scelte Così come i calciatori Sbagliano i gol Così come l'arbitro Sbaglia a fischiare Così come l'allenatore Sbagliano Le sostituzioni Quindi tutti Abbiamo il diritto Di sbagliare Ma tutti dobbiamo crescere Se si vuole avere Ovviamente Un progetto Duraturo Io ringrazio Sempre Tutti gli sponsor Che ci appoggiano Durante Durante la stagione Perché è inutile dire Che senza Il contributo Di tutti gli sponsor Ovviamente Lo sport In generale Non si potrebbe fare Quindi Bisogna La città Deve capire Che per poter Fare le cose In un certo modo C'è bisogno Del supporto E dell'apporto Di tutti Dall'amministratore Dall'amministrazione Dalle attività Che partecipano Con il loro contributo Tutti devono Ovviamente Metterci Ognuno Con le proprie competenze Con le proprie capacità Chiaramente Una buona parte Del futuro Del bitonto Come giustamente Sottolineavi Anche tu Dipende dalla questione stadio Ci sono dei primi Aggiornamenti Nel senso che Nei giorni scorsi C'è stato un incontro Con il sindaco C'è stato un sopralluogo Allo stadio Allora noi Andiamo a sentire Un'intervista Realizzata proprio Al sindaco Ricci Per invitarvi davvero A metterci Della passione Per i lavori Siamo certo Voi siete un'azienda Una ditta molto seria Le credenziali Sono ottime Ma in questo lavoro Voglio che davvero Ci mettiate La passione Che tanti tifosi Bitontini Mettono per questa maglia Per questa squadra E noi Per questo motivo Vi regaliamo La società L'amministrazione Vi fa dono Di questa Della maglia Del bitonto calcio Perché appunto Quella passione Che tifosi Mettono per questa maglia Voi Possiate mettere Per il rifacimento Per il rifacimento Di questa struttura Vogliamo che ce la consegnate Per quello che la città Merida Oggi Terminiamo L'iter Già avviato Qualche mese fa Riguardante Riguardante E' semplice E' semplice Reperire fondi Molto più complicato Gestire una gara D'appalto Affidare i lavori Seguire un iter Procedimentale Non semplice Con gli uffici Con le strutture Burocratiche Che devono Ovviamente Osservare tutte Le varie Regole Le varie norme Che sono previste In questi casi Ai tifosi Davvero chiedo Di avere Ancora un po' Di pazienza Ecco Per il modo tale Poi da poter consegnare Una struttura Agibile Idonea A tutti gli effetti Che la città Davvero merita E questa squadra Davvero merita Gli eventuali tempi Di consegna Del Tempi previsti Da contratto Sono di 10 mesi Ovviamente Come ha detto il sindaco La struttura Si impegna Da subito A seguire Tutto l'iter Dei lavori Come sta avvenendo Tra l'altro Per tutti i cantieri Questa amministrazione Ci tiene molto Allo stato di via Megra Appena ci siamo insediati Abbiamo dato piena Esecutività Con l'indizione Della gara d'appalto Oggi si completa Una prima parte Dell'iter L'iter si completerà Quando i lavori Saranno terminati L'inizio dei lavori Sono già Imminenti Oggi c'è la consegna Come ha detto il sindaco Dell'aria Quindi i lavori Partiranno Da subito Noi Ho già riferito A tutti Che Ovviamente Vorremmo Che Ci sia Come ha detto Giustamente il sindaco La stessa passione Che ci mettiamo noi Addetti ai lavori E i calciatori La mettessero anche Le imprese Che dovranno venire Qui Sul Sul campo Quindi Spero che Si inizi Quanto prima E che Si vada Il più veloce Possibile Noi ovviamente Nel limite Delle nostre Potenzialità Molto bello È stato il gesto Di consegna Della maglia Da parte Della società All'impresa Appaltatrice È un gesto Che serve Ovviamente Nello sport Serve per avvicinare Per fare anche Socialità Tutto Quindi La ditta Vincitrice È campana Quindi Noi spesso Ci giochiamo Ci confrontiamo Con realtà Extra Pugliesi Quindi Ci fa piacere Questo dono E che sia Da 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 problemoria Che il Bitonto Ha bisogno Dello stadio I tifosi E la città Hanno bisogno Di tornare A vivere La domenica Con la squadra Presidente Il sindaco Chiede pazienza Tu Che rappresenti La società Sei fiducioso In merito a questa questione Io Ho fatto Delle Delle richieste Alla ditta Appaltatrice Ma Soprattutto Ho fatto Delle richieste Anche Al sindaco Ho visto I progetti L'altro giorno E Purtroppo Come temevo Ci sono Delle cose Che non Mi sono piaciute Ovviamente Chi ha fatto Il progetto E questo Ovviamente Anche lui Il sindaco Ha ereditato Da chi Lo ha preceduto Se si fa Un progetto Di ristrutturazione Di uno stadio E non si Interpella La società Che vive Allo stadio E' inevitabile Che non si Conoscano le esigenze Di chi sta Tutti i giorni Sul campo E quindi Vengono fuori Delle situazioni Che non vanno bene Io ho chiesto A Francesco Un incontro E quanto prima Dobbiamo incontrarci Per capire Come sistemare Alcune situazioni Legate Ovviamente Agli ambienti Dello stadio Io devo ringraziare Il sindaco Perché è molto disponibile C'è abbastanza Dialogo Ed è sempre Vicino Alla società Lui ha voglia Che quanto prima Si chiuda Si chiuda Questo capitolo E il bitonto Torni a giocare Al Città degli Olivi Io chiedo Anche io Ho chiesto ai tifosi Pazienza Ma ho chiesto Alla ditta Di fare Il più in fretta Possibile Parlerò Mi vedrò Con il sindaco Per far spiegare Quelle che sono Le nostre esigenze Sicuramente Non ci saranno Non ci saranno Problemi Mario Sì Chiaramente Mi fido ciecamente Anche per via Delle diottrie Che mi mancano Delle parole di Antonello Che però un po' Mi preoccupano Io sono stato In settimana All'ufficio tecnico E ho parlato Con l'ingegnere Responsabile Dell'ufficio relativo E finalmente Devo dire Che quando mi era Detto che sarebbero Iniziati i lavori Mi sono commosso Sarà perché Io ero presente Quel giorno Della amichevole Famosa col Bari Che 32 anni fa E mezzo Diede vita Al Città degli Olivi Diede nuovo volto Al vecchio comunale Di via Megra E quindi Diede Il restyling Decisivo Che poi portò Sulla scia Anche di quella Che era La nuova ventata Di stadi Strutture Impianti In tutta Italia Che fu portata Appunto Da Italia 90 E quando ho sentito Parlare L'ingegnere Di due elementi Uno che Lo stadio sarebbe stato Rifatto Ammodernato Adeguato Su quelle che sono Le esigenze Le richieste Fatte Dalla federazione Per un'eventuale Serie C E la cosa ovviamente Mi ha fatto Letteralmente felice Perché significa tanto Probabilmente potrebbe Significare anche La giusta sirena Che possa attrarre qui Ulisse Francesco E farlo rimanere Qui in città In maniera ancora più convinta Da un lato E dall'altro Poi mi ha fatto Mi ha detto questa cosa Mi ha fatto sentire Questa frase Recupereremo La curva Che fu donata Anni fa Dal presidente Quella in tubolari Innocenti Che doveva essere sistemata Dietro la porta Subito dopo l'ingresso E Tristemente Fatalmente Mi ha fatto andare indietro Con la memoria E mi ha fatto ricordare Che probabilmente Tutto quello che è iniziato Qualche giorno fa Poteva iniziare Qualche anno fa Addirittura Se non ci fosse stato Un muro contro muro Qualche Troppo Qualche rumore Di comunicazione Tra l'amministrazione E la società Non voglio adesso Rivangare Appunto Vecchie ferite Però probabilmente Ecco Diceva bene il presidente Quando c'è un'amministrazione Che quantomeno ascolta È pronta Al dialogo È aperta al dialogo Cosa è che è successo Poi anche con la precedente Ma solo In una fase successiva Dopo che all'inizio C'erano state Pure troppe Incomprensioni Quindi Speriamo che sia La volta buona Dopo questa parentesi Più che lecita Sulla questione Città degli Olivi Torniamo a parlare Di calcio giocato Andiamo a vedere Velocemente I risultati Completi Dell'ultimo turno Del girone H Di serie D Perché oltre alla vittoria Del Bitotto Per 3 a 1 E danni della Molfetta C'è stata anche la vittoria Del Casarano 2 a 1 Contro il Matera 5 gol della Cavese Sul gladiato 5 a 3 Risultato finale Francavilla Nardò 2 a 1 Lavello Fragolese 1 a 2 Nocerina Barletta 0 a 1 Brindisi Altamura 1 a 1 0 a 0 Tra Gravina E Fasano Vittoria del Martina 2 a 1 I danni della Putiolana Classifica Che vede ancora Al comando La Cavese Con il Barletta Che supera Il Nardò Prossimo avversario Del Bitonto Bitonto Che rimane sempre Nella zona sinistra Della graduatoria Lì in fondo C'è sempre la Putiolana Sempre più a rischio Ultima in classifica Adesso concentriamoci Velocemente Sul prossimo turno Che il Bitonto Affronterà Sul campo del Nardò Andiamo a vedere Cos'è successo L'andata Ormai Il Canovaccio È sempre il medesimo I leoncelli Sputano l'anima Sul prato groviera Azzannano Tacchetti E garretti altrui Poi bastano Un'amnesia Un episodio Uninezio E la partita Per il Bitonto Si fa ineluttabile Tragedia È capitato anche Contro il Nardò Dell'ex Nicola Ragno Ora appaiato Al Casarano Sulla terza piazza Del Girono Mister Valenano Noseto Scombussola un poco L'undici di partenza Con Petrarca Difesa Dei sette metri E spiccioli Fatidici Silletti E Gomes Baluardi Centrali Carullo E Riefolo Pendolini Spinelli Facitor di gioco Con Clemente Mariani A Farlegna Davanti il fantasista Tascabile Taurino alle spalle Di Figliolia E Chiaradia Avanzato E a piedi invertito Il tecnico Molfettese Mette insieme Con Arguzia Un manipolo Di filibustieri Scafati Viola in porta Cintura difensiva Con Urchiza Lanzolla Mengoli Ciraci Agnello E Polichetti A menare le danze D'Ambros E Gionai Minaci davanti Subito D'improvviso Due lampi Nel Grigiore In 60 secondi All'ottavo Da un lato Agnello Irrompe in aria Sfolgora Un destro Che si stampa Sulla traversa Dall'altro Taurino Si invola Sulla sinistra E spara Un rasoterra Che incoccia Nella base Del palo Al ventesimo Lanzolla Da 30 metri Sfera Su Via Chiancarello Tre minuti E Gionai Ci prova Di destro Con medesimo Esito A 10 primi Dall'intervallo Stop E mezza girata Del trequartista Tarantino Blocca Viola Dopo la pausa Cliché invariato Sette minuti Incornata Di Figliolia Che scivola Sul fondo Al decimo L'evento Che griffa Il fato Del match Silletti Esce maldestro Dalla difesa Polichetti Scodella Al centro E avambraccio Di Gomes Dal dischetto Gionai Spiazza Petrarca I leoni Adesso Rugiscono Malcerti Minuto 21 Maffesi Di vincola De Mastini E calcia Viola Rimedia In tuffo Asseda Lo scadere Attimi Di pregevole Volle In area Granata Il signor Gavini Resta Afono Subito dopo Il traversone Di Mariani Da sinistra Moscelli La spizza fuori Primo di recupero Orlando Intercetta Il pallone Tira Fulminio Petrarca La inchioda Sulla zolla Estremo Sussulto Della gara L'ultimo Respiro Volè Dal limiti Di Taurino Cuoio Che sibila Accanto All'incrocio Finisce Così Con i Neretini Festanti All'unisolo Con gli Sparuti Sostenitori E gli Imberbi Neroverdi Che sciamano Fuori dal Campo Affranti E a Capochino E domenica Prossima Li attende La nobile Vorace Cavese Mario Inizia un periodo Niente male Per il Bitonto C'è il Nardò Poi c'è la Cavese Però Questa squadra Dimostra domenica Dopodomenica Di potersela giocare Con tutti Sono curioso Domenica Prossima Di vedere Se effettivamente Ci sono dieci punti Tra Nardo E Bitonto Insomma Questi dieci punti Perché Bitonto Si è giocata Con tutti Ricordiamo Che solamente La gara d'andata C'è stata Insomma Quel calcio Di rigore Insomma Che ha spostato Un po' Gli equilibri Però Bitonto Ha dato A Barletta Ha fatto una grande partita Con i grandi Si è sempre Espressa Con tutte Con il Fasano Insomma Ha giocato Sempre Sempre la grande Però sono curioso Appunto Di Questa Mi affascina Questa sfida Con In terra Salentina Contro L'ex Sempre Con il dente Avelenato Con Con In Nardo Che comunque Domenica scorsa Insomma Si è fermata In quelli Franca Villa Bisogna Insomma È un campionato Un campionato Un campionato Strano Dove non ci sono Non ci sono Squadre Insomma Dove A questo punto Del campionato Già Insomma Come l'anno scorso Erano già Certe Di Portare Insomma A casa Il bottino pieno Finale Intendo Quindi ci sono ancora Delle squadre Insomma Che possono Possono dire La loro Per la vittoria Del Del campionato E Bitonto Però Il Nardo Dovrà Vedersela Con Bitonto Affamato Sempre Affamato Sicuramente Che vorrà fare Bella figura In Qual di Nardo Allora Vediamolo tutto Il turno Del girone H Di serie D Perché ci sono un paio Di partite interessanti C'è a Fragolese Brindisi C'è soprattutto Barletta Casarano Fasano Francavilla Gladiator Lavello Matera Martina Molfetta Cavese Puteolana Gravina Altamura Nocerina Nardo E Bitonto Siamo in chiusura Io ringrazio il presidente Antonello Orlino Per la sua disponibilità Grazie presidente Grazie a voi per l'invito Grazie a Mario Romano Grazie Buonasera a tutti E grazie a Mario Sicolo Un caro saluto a tutti quanti voi E anche io ringrazio il presidente Orlino Noi ci rivediamo giovedì prossimo Con una nuova puntata di Rugito Nero Verde Grazie Questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università Caseificio Gioia WeWork WeWork Sicurezza Medicina del lavoro Verifiche periodiche Formazione www.weworkpoint.it DecorCart Distribuzione e rappresentanze articoli packaging Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Pizzeria Alcantagallo, un servizio speciale per dei clienti speciali. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS